A inizio aprile, al massimo dopo la pausa pasquale, i bambini di Nocera Inferiore potrebbero prendere possesso del nuovo asilo nido comunale di via Paolo Giovio. Ormai è tutto pronto. Sistemati i mobili all'interno e tutti gli impianti. Messo in sicurezza pure il costone del cavalcavia Santi Felice Costanza. Non resta che tagliare il nastro. Non mancherebbe nulla almeno strutturalmente. A inizio settimana è stata affidata pure la gestione alla cooperativa Solco Agro, che si è giudicata il servizio classificandosi prima in graduatoria, seguita a ruota da Emora e da Eco Società Cooperativa. Nei giorni scorsi c'è stato anche un cambio di dirigenza del settore. La nuova posizione organizzativa è stata affidata a Nicola Iacovino, che sostituisce Antonietta Manzo. L'asilo nido, sorto in quello che doveva essere un nuovo plesso elementare, quello della San Francesco, è dunque tutto pronto. L'obiettivo dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Maglio Torquato è tagliare il nastro prima che si entri nel vivo della campagna elettorale. Un'inaugurazione funzionale, non solo di facciata. Sono pronti, infatti, al trasferimento, i bimbi attualmente accolti nella storica struttura di Via Sant'Anna. Nelle intenzioni il passaggio sarebbe già dovuto avvenire. Si ipotizzava l'apertura per ottobre scorso, ma non c'è stato modo di farla. Alla fine della partita il conto per la realizzazione della struttura sfiorerà i 2 milioni di euro. Il progetto esecutivo, per un importo complessivo di 1 milione e 500 mila euro, fu approvato dalla Giunta Romano nel novembre 2009. Poi ci sono state delle integrazioni. Il cantiere è stato aperto il 4 marzo 2011. Soldi pubblici che rischiavano però di essere sperperati perché erano venute meno le esigenze che avevano portato la vecchia amministrazione a ideare e progettare una nuova scuola materna ed elementare. Poi la virata dell'amministrazione Torquato sull'asilo nido che ha consentito di dare a Nocere Inferiore una nuova importante opera pubblica.